L'Italia è stata la protagonista di questo evento, c'è stato un nome sicuramente molto curiosità, per la attenzione, per la nostra partecipazione, sicuramente che l'Italia fosse l'immigrazione rappresentata da un capo di Stato di un ero donna, che aveva messo 4 donne segute, erano vado 41 partecipanti locali, ovviamente una nozione da quale, in lo stesso che si chiama da un po' di Stato di un po', un po' di Stato di un'amica, la massiglia di tutti, in una situazione che hanno parlato di una cosa che si può fare, mi ha detto che fa piacere, proprio credo che se è sicuramente una situazione di un'amica, di un'amica, di un'amica, questa attenzione è stato più guidato, in un'ottimità di uno stupido, io adesso non sono riuscita a fare i cittadini, io non posso fare i cittadini, io non posso fare i cittadini, io non posso dare i cittadini a nostra dieta, con l'Italia, che davvero mi ha venuto trovare più in quest'amore, vedo che ci sono che ci dimentichia, che era un po' di un'amica, Il governo è un governo stabile e danno le lezioni di lungo e lezioni comunali e lezioni di grande parte più interessante immaginare e aumentare un attore fondamentale delle relazioni sull'anità di questo senso con il quale è molto importante per accennare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.